Ciao ragazzi e ragazze, eccomi qui oggi per parlarvi del nuovo Scandal by Night. Io ho avuto la fortuna di essere stata omaggiata di un sample e questa è la sua presentazione. Si capisce già che il flacone è identico nella sua presentazione a quello dello Scandal del 2017 che io possego, che possego tra l'altro nella versione da 30 ml ed è questo. Il 30 ml non ha il tappo con le gambe che è molto molto carino perché ricorda un po' la danza burlesque, ma ha la riproduzione dello stesso motivo del tappo come ciondolo, quindi immaginatevelo con questo riprodotto qua in cima al tappo. E così è per la nuova versione Scandal by Night. Allora, a me Scandal è un profumo che piace veramente tantissimo. E' un profumo gourmand, dolce, dolce, dolcissimo, quindi per alcune persone potrebbe risultare anche stucchevole perché è una dolcezza quasi esasperata con una nota di miele che lo caratterizza dall'inizio alla fine della sua evoluzione. Ce l'abbiamo proprio subito, lo sentiamo appena spruzzato. Con delle note di testa di arancia rossa, di agrumi, agrumate e poi abbiamo un fondo molto panciuloso e ritorna la cera d'appi anche sullo sfondo. Il cuore, il fiore diciamo che predomina nel cuore di Scandal, quello classico, è questa gardenia rivestita in tutta questa dolcezza. Profumo con una durata eccezionale, dura tutto il giorno sulla mia pelle che non ritiene tanto il profumo e infatti l'ho messo tra i profumi per l'autunno. Ma mi ha sorpreso molto piacevolmente il nuovo Scandal by Night, la nuova versione, che appena spruzzato ricorda subito il DNA di questo. Però poi man mano che il profumo si evolve si sentono delle differenze e anche notevoli. La differenza più forte che io avverto sta nelle note di base perché questo mi rimane molto più zuccheroso, molto più dolce, vi dico anche che l'estate secondo me questo profumo è importabile perché è un profumo che potrebbe essere pesante con il caldo, quindi è dato proprio a questa stagione e rilascia ancora questo fondo molto zuccheroso, molto molto dolce, molto mielato continuamente anche quando mi rimane sulla pelle nelle ultime note. Ha una nota spiccata anche di liquirizia, una liquirizia che si sente e non c'è in questa versione dello Scandal by Night. In cosa sono le differenze? Nelle note di fondo perché mi rimane una nota di sandalo, un sandalo che si fa sentire in maniera molto forte sulla mia pelle quasi a livelli del Samsara di Guerlain che su di me alla fine lascia questo bel sandalo molto persistente e riesco ad avvertirci questa nota di sandalo che manca in questa versione qua dell'originale. Poi ha una nota di tuberosa quasi esasperata, proprio tuberosa tantissima ce n'è nelle note di cuore assieme al nardo che anche è una bellissima nota olfattiva, tra l'altro il nardo è anche un fiore, una pianta sacra con tutta una serie di suggestioni, è una nota molto molto evocativa e anche questa contribuisce a rendere questo profumo veramente molto sensuale, molto molto seducente. Combinato abbiamo questo sandalo di fondo che sento tantissimo con questa tuberosa e come durata devo dirvi che è ancora ma ancora più forte di questo qui, del classico, del classic. Quindi penso che più avanti me lo acquisterò anche perché mi piacerebbe avere il flacone, quello con il tappo con le gambe perché mi piace tanto e questa versione, devo essere sincera, la preferisco al primo scandal. Di solito i flanker spesso deludono per quanto riguarda molti profumi, mi è capitato spesso che le riformulazioni mi deludessero, in questo caso direi che il naso che l'ha creato che è Daphne Bouget, un grande naso che ha creato anche Aura di Thierry Mouglet, l'ultimo profumo assieme a Salamani e ad altri nasi, Daphne Bouget è la creatrice di questo profumo, di una persistenza oggi rara, quindi è un profumone, un profumone proprio bello, tosto come tanti altri profumi di Jean Paul Gaultier, quindi direi che Jean Paul Gaultier non si è smentito con questo profumo. Costo abbastanza elevato perché io vorrei acquistare il 50 ml e andiamo sugli 80 euro, quindi il prezzo è abbastanza elevato. Bellissimo, bellissima fragranza, vi leggo adesso le note olfattive così come sono riportate, che sono miele e agrumi in testa, nelle note di cuore abbiamo tuberosa e nardo dell'Himalaya, come già vi avevo detto, come note di base abbiamo la fava tonka, il paciuli e il sandalo. Anche il paciuli è una nota molto molto bella in queste note di fondo, per non parlare della fava tonka che è una delle note che io adoro, che conferisce sempre calore e cremosità. È un profumo quindi estremamente caldo. Daphne Bourgety dice che è stata una vera sfida creare questo profumo perché utilizzare il miele in profumeria e saperlo dosare bene non è facile, non è da poco, è una materia prima molto difficile da lavorare e si è ispirata a Madame de Ministère, una figura di donna che di giorno è una donna che lavora in Parlamento, quindi vestita con un taillère molto seria, molto compita, ma di notte si scatena e da qui lo scandal, un profumo che veramente si fa sentire e che non passa inosservato. Senz'altro penso che appena ne ho la possibilità lo acquisto, magari aspettando anche un po' di tempo in modo da riuscire a godere di qualche sconticino perché voglio veramente collezionare quel flacone bellissimo che Jean Paul Gaultier ha creato e che mi piace troppo. Non mi resta che consigliarvelo, è ancora più affascinante dell'altro profumo, meno dolce e di questo io ne sono contenta, ma più seducente e ancora più profondo, ancora più duraturo. Scandal di Jean Paul Gaultier by Night Eau de Parfum chiaramente, molto molto intenso, ma all'intensità che si potrebbe benissimo pensare a un estratto di profumo più che a un Eau de Parfum. E questo video si chiude con questa mia recensione che mi sono sentita di farvi anche solo con un sample perché è talmente forte, talmente intenso che con un solo sample sono riuscita veramente a riapplicarlo più volte per farmi un'idea. E poi tra l'altro ho già la traccia di questo che è il suo DNA, sono contenta comunque anche di averlo per aver potuto fare delle valutazioni più approfondite su come questo profumo si è evoluto in questo, perché questo rappresenta una evoluzione di questo classico. Sono molto entusiasta, vi saluto, siamo arrivati alla fine di questo video, spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!